Siamo a Mondovì con Sergio Trassarello che è il referente RCS e si parla di Giro E con il passaggio qua nel Monregalese. Ci spiega l'iniziativa? Allora Giro E nasce nel 2019, un evento unico nel mondo per la sostenibilità con le biciclette elettriche. Nasce a supporto del Giro Pro e ha un'espansione molto grande perché siamo passati da 6 team e siamo a 14 team. Passerà in questa zona? Passerà venerdì 20 maggio, partenza a Mondovì, dalle ore 14.30 per andare a intersecare il Giro Pro verso la località Santa D'Avandria.